Secondo giorno in America Siamo andati a fare colazione E guardate che cosa figa Praticamente questo è un abollo con una specie di yogurt freddissimo Subito dopo siamo partiti Ci siamo fermati in un supermarket e non vi dico le cose che ci stavano Guardate le strade quanto sono grandi Un paio d'ore di macchine E voilà, siamo giunti a destinazione Siamo andati al Joshua Tree Park Mi sembrava troppo di stare dentro al cartone animato di Willy Coyote Avete presente? Bip bip La cosa particolare di questi alberi è che potete trovarli solo e solamente qui in tutto il mondo E' assurdo e davvero bellissimo Abbiamo anche incontrato degli amichetti Subito dopo tappa cactus Io non avevo mai visto questo tipo di cactus Sembra proprio un cartone animato Siamo ripartiti e ci siamo fermati a fare delle foto proprio qui Guardate c'era questa scritta enorme surreale Ed eccoci qui arrivati finalmente alla Route 66 Se incontro Cars ve lo farò sapere Era anche un monumento dove tutti lasciano un ricordo Io ho lasciato una molletta Questo è uno dei posti più famosi della Route 66 Per finire siamo andati a vedere questa scultura Pare che l'hanno messa qui qualche anno fa e nessuno sa chi, come e perché